la baionetta è la parola desueta di oggi e non mi dite che è una parola che tutti conosciamo che usiamo quotidianamente perché è molto tempo che la baionetta non c'è la baionetta era quella punta metallica con la quale si poteva combattere all'arma bianca che veniva inserita sul fucile ed è tipica dell'ottocento e baionetta la parola desueta di oggi